Io sono Cristiano Delisis e rappresento la squadra della Asafrimed Italian Gas. Siamo un gruppo di amici veterani del torneo perché abbiamo partecipato praticamente a tutte le edizioni e ci è riuscito di vincerlo un paio di volte e quest'anno abbiamo degli obiettivi un po' più in basso, diciamo che puntiamo alla porchetta. L'organizzazione abbiamo partecipato tutti gli anni quindi la reputiamo più che eccellente perché ci permette di condividere questa passione.